Buonasera a te. Buonasera. Allora, che ci fai qua? Stiamo organizzando per il primo luglio. Cosa succede il primo luglio? Succede l'apertura del Lido Bagno San Giovanni. L'apertura? Del Lido Bagno San Giovanni. E che facciamo noi? Facciamo una grandissima festa. Presenteranno, presento io, ci saranno le miss, le persone della corrida e ci sarà una bella festa. Ci sarà anche chi? Ci sarà una grande festa. Senti, cosa ti sembra? Cosa ti pare? Hai visto che bella situazione hanno creato qua questi dell'associazione Il Mare Bagno San Giovanni? Bellissimo. Il nuovo è bellissimo. Quindi non ci resta altro che far venire le persone. Dunque, allora parliamo un attimo, parliamo seriamente. Il primo luglio in effetti noi facciamo una bella cosa. Riprendiamo le ragazze che hanno sfilato, o meglio dire che hanno partecipato alla manifestazione Miss Mamma, Miss Baby e Miss 2012. E le portiamo a fare una bella sfilata lungo la spiaggia e veniamo qua solo. Giusto? La cosa si svolgerà dalle ore? Dalle ore 21. Comincerà, diciamo così, la festa dell'associazione Il Mare Bagno San Giovanni. L'apertura ufficiale della stagione balneare. Ok. Cosa devono fare le persone? Non devono fare altro? Posso avvicinarmi a te? Posso avvicinarmi a te? Sai che cosa devi fare? Guardami, guardami qua. Perché ti nascondi? Allora resta così, ora vai e ci sei dentro. Vieni qua, resta così, ora vai e ci sei dentro. E girati! Dai! Giratemi qua! Allora vengo da te, lasciami. Questa si perdono. Cosa dovete fare da lunedì, dal primo luglio? Ballare. Venire tutte qua perché tutte le sere si ballerà e ci si diverterà. Ma ho pensato che già da stasera si ballava sinceramente. Stasera non lo so perché stiamo... Ma loro stanno all'inizio. Noi comunque, poi il primo luglio ci saranno le sfilate, noi l'anno scorso abbiamo fatto... No, lo so. Brava, ci saranno le sfilate, sfileranno tutte qua. Oh, però tu con questi occhi, il primo luglio, poi ti iscriverai da vera luglio, per partecipare come Miss Mamma. Ah, no, mamma. Vera, che facciamo? No, si deve iscrivere alla signora. La facciamo venire il primo? È importante, è importante. Intanto dimmi come ti chiami. Mi chiamo Nunzia. Nunzia. Tu brutta, come ti chiami? Ma tu sei brutta proprio sul serio. Girati! No, 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 no. Ma girati che sei brutta sul serio però. Eh dai, girati, come ti chiami? Che devo fare? Devo mettermi a piangere. Girati. E come ti chiami? Oh, ma ti vuoi girare? Guarda che vengo dentro e ti tiro i capelli. Vengo da... Brava, come ti chiami? Così, brava. Oh, no, Speranza. Cerca di... Speranza ti chiami. Ma nulla, ti chiami Speranza e che fai? Ci fai morire proprio? Ci fai morire? Oh, Speranza ti vedremo. Il giorno primo luglio. Guarda che passerai le guai. Tu dovrai venire lì sopra e dovrai fare qualcosa il primo luglio. Ti dirò io poi quel giorno, ok? Ciao, salutavi, speranze. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.